Vaccinazione a via per gli over 60, prenotazioni per la faccia 50-59 anni. Domani i funerali di Manuel Berti, 24enne pesarese, morto dopo un incidente in moto. Riparte la stagione concertistica di Pesaro con tre nuovi appuntamenti. Sport, ottime performance per Italservice e Angers. Questa sera la WLS Fidel Brescia. Una buona serata a tutti i telespettatori di Rossini TV, il canale 633 del Digitale Terrestre. Bentornati a un nuovo appuntamento con l'informazione del nostro telegiornale Rossini News. Subito in apertura parliamo degli ultimi aggiornamenti sanitari riguardanti le vaccinazioni anti-Covid-19 perché da questa mattina a Pesaro sono partite le somministrazioni per gli over 60. Continuano nel frattempo anche le prenotazioni per le altre fasce d'età e appunto per le altre categorie. Tutti i dettagli in questo primo servizio. Sono partite questa mattina all'Ex-Risto, punto vaccinale di Pesaro, le vaccinazioni per i cittadini di età compresa tra i 60 e i 64 anni. Circa 600 le persone attese in questa prima giornata di somministrazioni per gli over 60, a cui sono state riservate le dosi AstraZeneca. Le prenotazioni per questa fascia d'età iniziate lo scorso sabato avevano raccolto nella giornata di ieri già 34.000 adesioni a livello regionale. Un numero importante ha ricordato l'assessore alla sanità regionale Filippo Saltamartini, visto che più o meno tutta la platea degli eventi diritto è composta da circa 50.000 persone, di cui 15.000 sono già state immunizzate poiché appartenenti ad altre categorie, come quelle degli insegnanti, delle forze dell'ordine o del personale sanitario. Sempre a partire da questa mattina, i cittadini marchigiani appartenenti alla fascia d'età tra i 50 e i 59 anni, con specifiche patologie senza elevato grado di rischio e non seguiti dalle strutture sanitarie, possono iscriversi alle liste di adesione per la vaccinazione tramite l'apposita scheda ASUR presente sul sito della regione. Rientrano in questa categoria le persone con malattie respiratorie, cardiocircolatorie, neurologiche, diabete o altre endocrinopatie, HIV, insufficienza renale o patologie renali, ipertensione arteriosa, malattie autoimmuni, immunodeficienze primitive, malattie epatiche, malattie cerebrovascolari e patologie oncologiche. Nei prossimi giorni verranno inoltre fornite ulteriori indicazioni dal Servizio Sanità della Regione per attivare la prenotazione di tutti i cittadini d'età compresa tra i 50 e i 59 anni. Sempre Salta Martini ha poi ricordato come le vaccinazioni nelle Marche seguono un doppio binario, quello dell'età e quello della fragilità. Ad oggi i familiari dei pazienti fragili che si sono prenotati e che devono essere vaccinati sono 12.000, mentre i caregiver a cui è stato somministrato finora al siero sono più di 11.800. A metà settimana è previsto un importante rifornimento delle dosi Pfizer e a fronte di ciò potrebbero essere somministrate nel prossimo weekend le dosi destinate ai caregiver mancanti sul territorio pesarese. Sembra tutto pronto inoltre per l'entrata in funzione del nuovo punto di vaccinazione a Gradara. Il 15 maggio è la data prevista per l'inizio delle somministrazioni nel nuovo hub, mentre il bacino d'utenza interessato riguarda i residenti di Gradara, Gabice Mare e Tavuglia. La prenotazione avverrà sempre tramite il portale delle poste e in base al numero di vaccini disponibili saranno attivate le postazioni all'interno del centro, che da due potrebbero diventare quattro. E come ogni lunedì calano il numero di tamponi di nuovi positivi a livello regionale e anche per la provincia di Pesaro. Vediamo quindi gli aggiornamenti sul territorio regionale dell'andamento del Covid-19. Il servizio sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1.140 tamponi, 535 nel percorso nuove diagnosi, di cui 180 nello screening con percorso antigenico, e 605 nel percorso guariti, con un rapporto positivi testati pari al 10,7%. I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 57, con 6 casi in provincia di Pesaro e Urbino. Due invece i decessi che si sono verificati nelle scorse 24 ore. E ora passiamo a parlare della cronaca perché è fissato per domani mattina l'ultimo saluto a Manuel Berti, giovane centauro pesarese, che ha perso la vita in questo fine settimana a causa di un incidente motociclistico a Borgo Pace. È fissato per domani, martedì 11 maggio, alle 10, nella chiesa di Villa San Martino, il funerale di Manuel Berti, pesarese 24enne, che nella mattinata di sabato ha perso la vita a causa di un incidente in moto in località Borgo Pace. Erano da poco passate le 11 quando il giovane centauro, in seda al suo mezzo, mentre saliva lungo i tornanti del passo di Bocca-Trabaria, poco dopo la frazione di Lamoli, è uscito dalla carreggiata schiantandosi contro il guardrail. Il forte urto non ha lasciato alcuna speranza al ragazzo, che dopo aver violentemente battuto la testa è deceduto sul colpo. Inutili quindi tentativi di rianimazione effettuati dal personale sanitario del 118 per soccorrere il ragazzo, che si stava dirigendo in Umbria insieme ad un gruppo di amici. Insieme ai soccorsi, sul posto sono sopraggiunti anche i vigili del fuoco e la polizia locale. Nell'incidente non sono state coinvolte altre vetture e la strada è rimasta interdetta alla circolazione per alcune ore, per effettuare tutti i rilievi del caso. In queste giornate sono tanti i messaggi di cordoglio comparsi sui social per salutare e ricordare Manuel, ai quali ha deciso di rispondere il padre, Luca, che attraverso il proprio profilo social ha voluto ringraziare tutti per l'appoggio ricevuto. Proprio insieme al padre e al fratello maggiore, il 24enne lavorava nella storica ditta di famiglia che si occupa di pitture edili e decori per interni. In primo piano ancora la cronaca per parlare dell'aggressione ai danni di due ragazzi pesaresi, uno di 17 anni e l'altro di 18, avvenuta nella giornata di ieri a Fadnone. I due sono stati avvicinati da un gruppo di circa 15 ragazzi extracomunitari che prima hanno iniziato a infastidire il 18enne per via dello smalto che portava sulle unghie e per provare a strappargli di dosso le collane che indossava. Dopo che il 17enne ha tentato di difendere l'amico, il gruppo si è poi scagliato su di lui, prendendolo a calci e pugni e rompendogli una mano e il setto nasale. Dopo l'aggressione, il branco è fuggito, portandosi via alcuni effetti personali dei due ragazzi. Ad essere ritrovato poco dopo è stato soltanto il cellulare del 18enne. Sul posto sono intervenuti i carabinieri polizia insieme al 118. I genitori dei due ragazzi hanno presentato denuncia. Ancora la cronaca perché alcuni residenti del quartiere di Borgo Santa Maria a Pesaro hanno segnalato un episodio particolare che ha avuto luogo ieri davanti alla nuova chiesa quando un uomo brizzolato sceso dallo scooter in cui si trovava a bordo ha avvicinato un bambino chiedendogli di indicargli dove si trovasse un bagno. La scena è stata interrotta con l'intervento di uno dei diversi adulti che si trovava nella zona, mentre un altro bambino ha successivamente affermato che lo stesso episodio con lo stesso uomo era già intercorso nelle giornate precedenti non troppo distante nei pressi di via Monte Amiata. I genitori invitano quindi a tenere alta l'attenzione mentre i due fatti accaduti sono già stati resi noti al parroco, sui vari gruppi scolastici e alle autorità competenti. Il comitato di Borgo Santa Maria chiederà inoltre un maggior presidio delle forze dell'ordine nel quartiere. E ora cambiamo decisamente pagine, parliamo dei tre nuovi appuntamenti in programma per la 61esima stagione concertistica di Pesaro. Il Teatro Rossini torna quindi ad aprire le sue porte alla musica dal vivo dopo il lungo e forzato stop a causa del Covid. Vediamo. Si intitola Ritorno alla musica, la ripresa della 61esima stagione concertistica del Lente Concerti di Pesaro, che dopo il lungo periodo di inattività legato alla pandemia torna protagonista al Teatro Rossini. Un nuovo inizio per omaggiare inoltre i 60 anni di attività dalla Fondazione del Lente, avvenuta nel 1961. Prestigiosi gli ospiti in cartellone per i tre appuntamenti fissati ad oggi e previsti per il 15 e 30 maggio e poi 6 giugno. Sono tre eventi di grande livello, il grandissimo Pogo Relic, vincitore di tanti premi internazionali, fra cui il Terni, casa grande di Terni, ma anche di Montreal, è diventato famoso nel mondo per le sue interpretazioni sciopaniane. Poi abbiamo il concerto successivo, che sarà affidato a Lisa Reeder, un'allieva di Gideon Kramer e di Vittoria Numulova. Questi due artisti ne parlano benissimo di questa giovane e talentuosa violinista, la quale rende un omaggio a Beethoven. L'ultimo concerto è dedicato alla musica barocca, la musica barocca con un ensemble che è venuto spesso a Pesaro ed ha riscosso veritati successi. Sarà un omaggio bandolinista di fama internazionale che suonerà musiche di Vivaldi e di altri autori del periodo del Settecento. Dopo il Teatro Rossini, protagonista sarà l'anfiteatro del Parco Miralfiore. Siamo felici di riaprire il Teatro Rossini, un luogo sacro per l'immaginario collettivo della città che comunque si identifica con quel luogo per tutti i grandi eventi che hanno caratterizzato e continuano a caratterizzare la vita musicale della città di Pesaro. Abbiamo altri luoghi, altri spazi, un anfiteatro all'aperto in una zona che fino all'anno scorso è stata quasi totalmente ignorata che forse con altra di quelle ricadute positive tra i tanti effetti negativi del lockdown è stata quella appunto di riscoprire e rivalorizzare certi spazi anche della città che meritano di essere vissuti. L'anno scorso abbiamo già fatto una prima stagione di prova avevamo molti dubbi sulla riuscita degli eventi c'è stata una risposta molto buona e quest'anno proseguiremo con un cartellone di 5 eventi di grandissimo livello con grandi nomi non solo della musica classica ma anche del mondo del jazz e del pop quindi con l'obiettivo proprio di allargare quanto più possibile l'affezione verso l'ente concerti e verso la musica in generale. I biglietti saranno venduti fisicamente presso la biglietteria del Teatro Rossini dal 12 al 15 maggio oppure online sul circuito vivaticket.it sul sito enteconcerti.it sono invece indicate le modalità di recupero dei concerti in abbonamento annullati durante la 61esima stagione. Rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto all'evasione è questo lo scopo del protocollo d'intesa firmato questa mattina dal Comune di Pesero e dalla Guardia di Finanza l'accordo firmato oggi all'intento di rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto delle condotte lesive e degli interessi economici e finanziari pubblici legati all'evasione tributaria e alle misure di sostegno erogate controlli rafforzati quindi per aiuti alle imprese per l'erogazione di contributi come affitti, rimborsi utenze o contributi allo studio concessione di alloggi pubblici e infine per il contrasto all'abusivismo nel settore alberghiero presenti alla firma il sindaco di Pesero Matteo Ricci, il comandante provinciale Enrico Blandini e l'assessore al rigore Riccardo Pozzi e anche quest'anno il mare di Fano è stato giudicato eccellente la città della fortuna per il 17esimo anno consecutivo è stata insignita della bandiera blu il riconoscimento è stato confermato anche per Gabice Mare in questo caso il titolo è stato dedicato alla dottoressa Rita Cecchini caposaldo dell'ente comunale scomparsa improvvisamente nella giornata odierna e di cui il sindaco Pascuzzi e la presidente del consiglio comunale Viagioni hanno ricordato il prezioso lavoro svolto in tutti questi anni tra cui l'organizzazione di alcuni eventi istituzionali Fabrizio Furlani è il nuovo presidente dell'ambito territoriale di Caccia Pesaro 1 perito agrario e laureato in scienze agrarie presso l'Università di Ancona Furlani ha ringraziato il comitato per la fiducia accordatagli mentre il vice governatore regionale Mirko Carloni ha accolto con entusiasmo la nomina di Furlani e sono partite oggi le riprese di Benelli su Benelli il docufilm ispirato alla vita del leggendario Tonino Benelli sono e saranno allestiti a Pesaro dunque i set per questa nuova produzione firmata Genoma Film e Paolo Rossi Pisu Location protagoniste saranno soprattutto il Museo Benelli, il Centro Storico, le colline attorno a Pesaro ma anche località delle Marche per favorire il cineturismo nel docufilm sarà ricostruita la breve vita umana e sportiva del più piccolo dei sei fratelli Benelli fondatori ai primi del Novecento della famosa casa motociclistica di Pesaro la voce fuoricampo di Tonino sarà quella dell'attore marchigiano Neri Marco Re mentre l'attore pesarese Alessandro Gimelli vestirà i panni del protagonista ed è stata presentata a Tavulia in quest'ultimo fine settimana la nuova pista da motocross junior camp Tonino Benelli noi eravamo presenti e vi raccontiamo questo momento attraverso le interviste ai protagonisti diciamo che oggi in questa giornata facciamo un cambio di gestione di una pista che è già stata inaugurata un paio di anni fa che è dedicata in particolare ai ragazzini e ai bambini che si vogliono approcciare a uno sport che è bellissimo e che è quello del cross per i bambini questo è come un parco giochi diciamo perché permette loro di svolgere questa attività con grande divertimento sotto la supervisione di persone capaci di insegnare un'attività che è importante ma va attenzionata molto per la salute dei ragazzi e qui ci sono tante persone con dei ruoli che sono in grado di affrontare tutti i temi di questo sport devo dire che a Tavulia ormai siamo conosciuti per attività motoristiche e questo ci fa sicuramente molto piacere c'è un grande fermento qui, ci sono molti giovani, ci sono tante ragazze, anche giovani donne e questo mi fa particolarmente piacere devo dire che è una giornata molto bella all'insegna dello sport e soprattutto dell'aggregazione, dell'inclusione, tutte belle parole che ultimamente sfuggono dalla realtà però in questo caso vengono concretizzate io devo ringraziare moltissimo due soci del Motoclub che sono Davide Cecchini e Stefano Dini che ci hanno dato la possibilità di riprendere questa pista che era stata dismessa così da poter fare in modo che i ragazzini innanzitutto si avvicinino al motociclismo in maniera sicura anche perché qui all'interno di questa pista si può girare solo con la tessera sport della Federazione Italiana Motociclistica e quindi con tutte le assicurazioni e le cautele della situazione e anche perché appunto così togliamo anche i ragazzini secondo me da in mezzo alla strada Tutto il progetto del Junior Camp è nato dalla passione che abbiamo per questo sport, il motocross e per dare la possibilità a chiunque voglia avvicinarsi a questo sport, soprattutto ai ragazzini di poter girare in un circuito, chiamiamolo semplice, senza tanti ostacoli, pericoli nella massima sicurezza Il circuito l'abbiamo fatto omologare, quindi è stato riconosciuto sia dal CONI che dalla Federazione ed è riconosciuto come il circuito di quinto livello per allenamenti Vediamo già questa mattina tantissimi ragazzi che non vedono l'ora di andare in pista Sì, si sono alzati alle 7 e mezza per essere qui alle 11, perciò sono molto propensi a usare questa cosa Sì, gli piace molto perché risulta semplice, per loro imparano e noi li seguiamo nella loro sviluppo di crescita di andare in moto e li seguiamo fin quanto possiamo Devo dire che ormai da diversi anni come Regione Marche abbiamo approvato appunto questa legge che individua la Regione Marche come un territorio dove occorre valorizzare e promuovere la cultura motoristica A fianco a questo devo dire che inaugurazioni come quelle di questa mattina di un vero e proprio a pista legato soprattutto ai più giovani devo dire che è un bel segnale I ragazzi devono imparare che per poter andare forte o provare certe brezze non lo devono fare su strada ma lo devono fare su piste come queste Voglio ringraziare ovviamente l'amministrazione comunale di Tavuglia perché qui siamo all'interno del comune di Tavuglia ma soprattutto il Motoclub Benelli di Pesaro che attraverso una serie di giovani, di loro iscritti hanno deciso di gestire questa pista quindi come gestione diciamo che dipende dal Motoclub Benelli sarà solamente per le persone che sono iscritte alla federazione che quindi avranno coloro che andranno a girare avranno anche una copertura assicurativa E come ogni lunedì apriamo anche la pagina sportiva del nostro telegiornale se la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro nonostante la salvezza dovrà attendere questa sera per scendere in campo contro il Brescia nel weekend ad essere protagonisti sono stati i biancorossi dell'Ital Service e per il football americano invece gli Angels ce ne parla in questo servizio Edoardo Razzi Un fine settimana glorioso per lo sport pesarese che vede Ital Service ed Angels ottenere due importanti vittorie in ottica campionato La squadra di calcio a 5 si aggiudica il match di andata del primo turno dei playoff battendo in casa 5 a 2 la signor prestito La formazione allenata da Fulvio Colini, neo vincitore della panchina d'oro ha fornito un'ottima prestazione portandosi avanti nella sfida che vedrà le due squadre scendere di nuovo in campo mercoledì in Basilicata alle ore 16 La partita verrà trasmessa su Rossini TV e in caso di vittoria l'Ital Service strapperà il pass per la semifinale evitando gara 3 La partita di sabato è stata una partita molto difficile come era giusto che fosse perché quando incominci playoff tra l'altro da favorita hai sempre l'aspetto psicologico a tuo svantaggio quindi è stata una partita molto dura soprattutto all'inizio infatti nelle fasi iniziali soprattutto nei primi 10 minuti la CMB aveva preso il sopravvento sia nel gioco aveva preso campo ed era normale ce l'aspettavamo un impatto così importante così veramente così forte della CMB che comunque un'ottima formazione poi dopo però con il passare dei minuti la nostra qualità tecnica la tattica è venuta fuori e quindi così diciamo che la partita è andata in discesa storicamente abbiamo visto che nelle prime partite della fase iniziale dei gironi a playoff ci sono sempre delle grandi sorprese quindi noi dovevamo stare molto attenti a questa insidia siamo stati bravi a riprendere in mano subito la partita poi portarla fino al termine una partita che abbiamo vinto per 5-2 e adesso mercoledì prossimo andiamo a giocare in ritorno a Matera trionfo notevole anche per il football americano pesarese che pur giocando contro un ostico avversario riesce ad espugnare il campo del Perugia con un successo incoraggiante in chiave playoff gli Angels pur con 5 assenze importanti sconfiggono per 21 a 15 i padroni di casa aggiudicandosi la seconda vittoria nelle prime due gare ieri a Perugia è stata una grande prova d'orgoglio di una squadra gli Angels che già è arrivata con delle problematiche con dei giocatori importanti e infortunati abbiamo vinto una partita bella bella nel vedersi e anche praticamente ben costruita dal nostro coach staff la seconda partita è di un campionato strano un campionato che doveva per volta ripartire anche se il covid ci ha un po' penalizzato come tutti gli sport qui in Italia e anche nel mondo però i ragazzi hanno avuto la fortuna di riuscire a lottare fino alla fine fino all'ultimo secondo poteva essere persa siamo riusciti ad arrivare all'overtime e in chiave overtime di supplementare gli Angels hanno avviato poi gli attributi e sono riusciti a vincere una partita che per il futuro darà importanza anche per la cassa playoff per quanto riguarda il basket stasera andrà in scena l'ultima giornata di campionato per la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro che sarà impegnata alle ore 20.45 in casa del Brescia fuori dai playoff ma con la salvezza già in tasca la VL cercherà di concludere bene una stagione comunque positiva e questo era davvero il nostro ultimo servizio per questa edizione del nostro telegiornale vi ricordiamo la prima serata di Rossini TV questa sera potrete rivedere un episodio di storie il programma dedicato ai racconti di successo nella provincia di Pesaro e Urbino con l'intervista a Vittorio Livi questa sera quindi potrete rivedere storie in prima serata su Rossini TV alle 21.15 lo sport e più nello specifico Little Service saranno ancora una volta protagonisti su Rossini TV mercoledì 12 maggio alle 16 potrete seguire in diretta il match per i playoff gara 2 contro la senior prestito CMB quindi di tal service questo nuovo appuntamento sportivo su Rossini TV mercoledì 12 maggio in diretta a partire dalle ore 16 e poi l'informazione torna puntuale domani mattina con la nostra rassegna stampa Buongiorno Rossini in diretta alle 7.20 grazie per averci seguito in questa edizione del nostro telegiornale e vi auguriamo un buon proseguimento di serata su Rossini TV grazie per averci seguito in questo video